Buonasera, bentrovati per questa presentazione del libro di Vittorio Emanuele Parsi. Vittorio Emanuele Parsi lo conoscete, autore del libro di cui parliamo questa sera, ma anche e soprattutto professore di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano. Questa sera ne parliamo con Fabio Armau, professore di relazioni internazionali all'Università di Torino. Cominciamo dal titolo Il posto della guerra, che è dal titolo al libro edito da Bonpiani di cui parliamo questa sera, che è in teoria l'Europa. Nel libro dici l'Europa è sempre stata, nell'ultima fase della sua storia l'abbiamo considerata il posto della pace, oggi è diventato il posto della guerra. Vogliamo partire da qui. Ma sì, intanto buonasera e grazie di essere qui. Perché questo? Perché se pensiamo al continente europeo, il continente europeo vanta un record di bellicosità rispetto a qualunque altro continente al mondo. Ed è un record di bellicosità che affonda, diciamo, negli ultimi 2500 anni, quindi non esattamente lo spazio di un mattino, come si direbbe. E poi dopo la seconda guerra mondiale ha conosciuto invece un'inversione di tendenza. Di fatto l'Europa è stato il posto in cui negli ultimi 77 anni non ci sono state più guerre interstatali con lo scopo di annettersi un pezzo di territorio altrui. Considerate che i tre quarti delle guerre che noi abbiamo censito nella storia dell'umanità hanno come scopo principale l'annessione di territorio altrui. Per cui dire che questo non c'è più come causa vuol dire togliere i tre quarti delle cause dei conflitti. E questo è l'elemento di novità e quindi neanche di preoccupazione. Aver fatto tornare l'Europa al posto della guerra da parte di Putin è una cosa enorme. Ma non perché solo per la storia europea, ma anche perché la storia europea era riuscita a convertire quella macchina da guerra effettiva che è sempre stata lo Stato, in qualche cosa che riusciva invece a trovare delle forme di collaborazione reciproca. E non è così scontato, perché appunto la storia europea è una storia di guerra perché l'Europa progressivamente costruisce questa incredibile macchina da guerra che è lo Stato, che è il motivo per cui Cortese annichilisce Montezuma, non per quattro cannoni, due cavalli e un paio di corazze, ma perché Cortese è nella testa lo Stato, Montezuma no. E questo gli dà un vantaggio competitivo incredibile e i tre, quattrocento anni, anche cinquecento quasi, di supremazia europea nei confronti del resto del mondo è legata a questo, a questa specialità di questo terribile amore per la guerra, come lo chiama uno psicoanalista americano morto da non moltissimi anni, che caratterizza la storia europea. Allora questa è la cosa grave e quindi non è una cosa grave perché gli europei siano più importanti degli asiatici, gli africani, gli oceani, ciò quant'altro, ma perché questa era stata la grande inversione, perché l'Europa aveva portato le guerre nel mondo, sia in termini imperialistici, sia in termini di capacità di predare risorse per fare che cosa però? Guerra intestina all'Occidente, perché i francesi, i portoghesi, gli spagnoli, gli inglesi predavano all'esterno, ma per combattersi tra di loro e quindi anche questa è una cosa che spesso ci sfugge, perché noi siamo molti attenti a una lettura che è un pezzo e ci mancherebbe altro della nostra rapacità, ma ci dimentichiamo che quella rapacità non era la rapacità di un soggetto politico unitario, era la rapacità di una inesauribile voglia di autodistruggersi. E poi fatto grave perché questa costruzione della pace non era avvenuta attraverso la trasformazione dei cuori delle menti o la rivelazione di qualche messaggio profetico, ma quando mai, ma era avvenuta attraverso la politica e le istituzioni, cioè un lavoro quotidiano con difficoltà in mezzo a mille frustrazioni che aveva consentito di fare innanzitutto della pace e la regola intra-occidentale, ma una regola così forte da attrarre ai suoi comportamenti, non ai suoi convincimenti e badate, ma ai suoi comportamenti, che è il minimo che possiamo chiedere. Che le persone cambino idea, ma che le persone si conservino anche delle loro idee, ma si comportino in maniera differente. Così forte questa efficacia e questa prospettiva che creava la pace intra-europea da attrarre e irretire progressivamente nella sua logica anche attori che non erano democratici, non erano particolarmente attratti dai principi, ma che dicevano ok, pur di giocare ai vantaggi di questa partita, mi comporterò come gli altri. Questa rottura, quindi una rottura enorme, perché ti mette in revoco a tutto questo. Ci ributta in quell'incubo del dover cambiare la nostra natura, che è un incubo perché non succede mai. Quindi ci riaffida alle profezie, a queste cose che sono molto interessanti, anche piacevoli per alcuni aspetti, ma che alla fine nel nome delle profezie sono state condotte le più grandi tragedie. L'ultima cosa che dico, poi mi fermo. Questa costruzione della pace rimonta al 1945, cioè al posto del 1945. Sono almeno 2000 anni che esistono religioni rivelate monoteiste, poi a scalare, veniva un po' da noi, a parte la religione ebraica che è un po' un caso a sé, no? Non hanno cambiato niente. Cioè il paradosso è che chi voleva cambiare l'alima nel mondo e pensando su questo, di costruire chissà che cosa, ha alimentato guerre di religioni distruttive per secoli. E questa piccola cosa, un pochino molto laica, molto anche un po' modesta dal punto di vista delle pretese, che il liberalismo politico, in 250 anni più o meno, ha costruito gli effetti della produzione di un cambiamento. E anche questo ci dice tante cose sulla situazione attuale, su come guardarlo. Fabio Armao, so che hai un po' di osservazioni in generale sul libro, vogliamo partire da lì? E poi i temi ovviamente saranno tanti, perché c'è la proiezione ucraina, ma non solo, perché il libro parla anche di molto alto. Allora, intanto appunto, devo dire, questo libro è un libro, io lo definirei un libro impegnato, un libro anche schierato, diciamolo, però per niente ideologico. E questa è una cosa abbastanza sorprendente. Se voi lo leggete dalla prima all'ultima pagina, vi accorgerete facilmente che ha una logica molto stringente, argomenti molto forti ed è molto ben supportato, sia con una serie di riferimenti storici, ma anche teorici, di teoria delle relazioni internazionali. Quindi devo dire, io l'ho anche apprezzato, visto che facciamo lo stesso mestiere, anche come una difesa del mestiere che facciamo, che è abbastanza dileggiato, diciamo, negli ultimi decenti. Quindi l'ho apprezzato molto da questo punto di vista. Poi ci sono degli aspetti che non condivido del tutto. Come sai, per esempio, quest'idea dell'ordine liberale, della forza dell'ordine liberale, che è poi uno dei punti, degli elementi cardine della tua argomentazione. Io sono molto più scettico, non che tu non sia critico, perché l'altro aspetto, devo dire, interessante di questo libro è che non fa sconti a nessuno, per cui ci sono anche pagine molto critiche nei confronti delle democrazie, degli Stati Uniti, dell'Europa e così via. Però, allora, io sono partito leggendo questo libro con un approccio molto critico nei confronti di quest'ordine liberale. Sì, è vero, noi effettivamente, noi europei, abbiamo vissuto in pace gli ultimi quasi 80 anni di vita, ma di guerre ce ne sono state, abbiamo avuto come umanità un momento, una finestra di opportunità straordinaria che è stata l'89, il crollo del muro di Berlino, la fine del comunismo. Beh, questa occasione non l'abbiamo saputa cogliere per niente. Cioè, si poteva pensare che da quel momento in poi avremmo assistito ad un progresso costante e luminoso delle democrazie, in realtà non è stato così e adesso ci ritroviamo in una situazione altrettanto rischiosa. Poi sono arrivato alla fine del libro e dico, beh, comunque è vero, l'ordine liberale non è poi così liberale, tanto per cominciare, non è poi così ordinato, però, signore, è tutto quello che abbiamo. E quindi effettivamente tutto ciò a cui possiamo aggrapparci per evitare di cadere nuovamente in una situazione effettivamente conflittuale, di conflitto tra le grandi potenze. Quindi mi verrebbe da chiederti, ma tu come spieghi questa incapacità di cogliere la finestra di opportunità? Cioè, che cosa è successo dall'89 in poi che invece di condurci verso una situazione più pacifica, ma nel senso anche globale, ha trasformato i conflitti? E qui veniamo poi al tema vero del libro, che è la guerra. Cioè, com'è cambiata la guerra? Perché non è scomparsa e com'è cambiata? Credi sì, direi di sì. Scherzo, no? Beh, intanto ti risponderei perché bisogna scambiare il successo con l'onipotenza. Cioè, la guerra fredda è finita nell'89 con qualcuno che ha vinto o qualcuno che ha perso. Nel 91, poi sapete, no? Potete mettere il traguardo più o meno dove volete. E questo è un fatto. Probabilmente l'illusione è stata quella di pensare che questo consentisse di chiudere la partita una volta per tutte, non con il totalitarismo e con, per dire la Fukuyama, con l'alto grande comunque, l'altra grande interpretazione progressiva della storia, no? Perché a volte poi ci dimentichiamo che, nonostante l'unino sovietica, nonostante il fatto che il marxismo sia finito nelle mani dei russi, che faccio fatica a trovare una cosa più... Su questo Marx aveva ragione, cioè, è quasi un ossimoro, cioè. Perché il marxismo è una filosofia comunque di speranza, di evoluzione, di progresso. La cultura russa è una cultura introversa, no? I russi riescono a sentirsi persino defraudati, persino quando vincono. Cioè, i russi si lamentano dopo il 1815, dopo il congresso di Vienna, perché non hanno avuto abbastanza. Si lamentano dopo il 1945, perché non hanno avuto abbastanza. Figurati dopo l'89, quando ne hanno avuto abbastanza, infatti sono crollati, no? Per cui, secondo me, c'è un po' questa idea dell'onnipotenza, che è stato un po' un nostro errore. Pensare che una volta chiusa quella partita, allora fossimo in grado di disegnare il mondo. Non funziona così. Le sfide si aprono continuamente. Potrei dirvi che è un po' come navigare, no? Navighi e non sei mai in porta. Quindi, al momento c'è bonaccia, al momento c'è condizioni avverse, ma tu devi navigare comunque. Non è che dici, ecco, siamo arrivati, non sei arrivato mai. Oppure, se volete un'immagine più carina, vi ricordate quei nastri a rullo dei bambini, quando noi eravamo genitori giovani, che c'erano quelle cose che un po' a novella, la strada che si avvicinava con le macchinine, la strada è infinita, cioè, ecco, non finisce mai. Forse ci siamo un pochino persi su quello. E poi c'è stato sicuramente il fatto che, al mutare di una situazione, mutano anche i rapporti di forza tra gli interessi, tra gli attori. Quindi quegli attori che dentro lo schiena della guerra fredda avevano un'area, un raggio di prospettiva, di capacità di intervento di un certo tipo, venuta meno quella condizione, espandono la loro capacità di intervento e prevalgono su altre cose. Dopo, io sono convinto che è vero, noi abbiamo perso un po' di opportunità, ma la Russia non è che poteva salvarla noi, per così dire. Cioè, io penso che il problema della Russia sia la Russia. Cioè, un paese di 11 fusi orari che ha il problema di essere accerchiato dagli altri. Quanti fusi orari hai bisogno? È stato tranquillo. Non so, sono 24, 3, 2, 12, mi sembrano sufficienti, perché altrimenti ogni momento capisco la soggettività, no? Ma le grandi invasioni, ho capito. Noi ci avevamo avuto gli uni, altri andavamo, cioè, è un continuo. Questo mi sembra che sia un elemento deficitare della loro visione. Poi questo senso, appunto, sempre di questa specificità, no? I russi sono differenti. Io che ho, quando ero bambino, ragazzino, mi ricordavo che c'era ancora il franchismo in Spagna e chi se lo ricorda diceva Spagna è sdifferente, puoi giustificare il franchismo. Quindi ogni volta che c'è qualche schifezza in giro ti dicono che quella è differente, no? Ma l'essere costretto a vestirsi in un modo, pensare in un modo, mangiare in un modo, non fa piacere a nessuno. Io non conosco nessun popolo nel suo complesso che dice, bello, cos'è? Servi tu? Dai, media, due porzioni. Mai visto, cioè. Allora mi sembra che invece uno dei problemi della Russia sia proprio questa incapacità di distaccarsi dall'aspettativa dell'arrivo del Salvatore. Chi lo sa, magari ha a che fare anche con la religione, con questa incapacità di liberarsi, no? Dall'incombenza, dalla trascendenza, per cui prima c'era il Dio, poi c'era il Partito Comunista, poi c'è Putin, domani ci sarà un'altra ova di questo genere. Sempre che aspetti qualcuno che scende e li salva. Quando è amico mio, non ti salva nessuno, per cui rimboccate le maniche e nuota. Ti chiedo una cosa, l'hai citato poco fa, la caduta del muro di Berlino, fine dell'Unione Sovietica. Nel libro parli di un tema che è molto presente nel dibattito pubblico italiano e occidentale, mi sembra, da quando è scoppiata la guerra in Ucraina e forse anche da prima. Cioè l'idea che quello che stiamo vedendo, quindi il ritorno della guerra in Europa, si debba in realtà alla minaccia che la Russia ha percepito a fronte di quello che è definito l'espansionismo della Nato nell'Est Europa. Tu nel libro, insomma, neghi questa visione, dici che è un'idea che non sta in piedi e che negli ultimi 30 anni, insomma, tutti i paesi che uscivano dall'esperienza dell'Unione Sovietica hanno scelto di stare con l'Occidente, con la Nato, con l'Unione Europea. però questo è un motivo, diciamo, un'argomentazione molto forte nel dibattito pubblico. Ti chiederei allora di spiegarci un po' meglio perché secondo te non sta in piedi. Ma sì, allora io penso che, a parte che nel nostro dibattito pubblico tu sei un aspetto di sondaggi, perché insomma c'è... Non solo, chiaramente. Se non sarebbe qua, ma il... e può dirlo meglio di me, ma insomma l'imparaticcio, diciamo così, no? Del dibattito pubblico italiano è... Da un lato un cinismo ribottante. E no, perché quelli sono forti, la vita è fatta così, i forti vincono, i diavoli perdono. È brutto, eh? Ma è la vita. No? Queste rassegnazioni... Ed è un pezzo, no? E quindi, no? I discorsi che facevano all'inizio dicendo che gli ucraini sono troppo deboli, meglio che si arrendano subito. Chi glielo fa fare? D'altra parte gli italiani, Franza o Spagna, bocca, se magna, no? Poi dall'altra parte a corollare di questo ragionamento, il mondo è cinico, è brutto, più alle gattive, no? Poi però, è certo, noi siamo diversi. Perché poi il concetto è questo, noi siamo diversi. Quindi il mondo è fatto così, così, ma noi invece siamo nobili e quindi che facciamo? Noi siamo a pace. per la non violenza, con un livello poi di conoscenza delle cose da quello che diceva la mamma quando eravamo piccoli come livello di profondità. Corri, ma non sudare, lo ricordi? gioca, ma non ti sporcare. Che come dire, scusate, uno va in tilt, no? Allora questa idea, no, perché la guerra, basta smettere di farla la guerra. E certo, ma come manco? Abbiamo pensato prima, ma dai però, due milioni di anni che c'è la guerra ed era così semplice la soluzione. Invece, questo è un paese che gli piacciono le cose semplici, no? Poi arriverà mammona e ti cambierà l'anima, la pensiera e tutti diventeremo e tutti vissero felici e contenti. Questo è un pezzo dell'aspetto, secondo me, veramente una roba raccapricciante. Questo mix di nobili ideali conditi con i più viechi opportunismi. Ma io ciò, in Italia della guerra si è parlato principalmente per le bollette del gas. o se non c'era il caro bollette la guerra sarebbe uscita all'inizio del campionato del mondo anche se non c'è l'Italia che gioca o comunque con il nuovo governo o anche forse con l'inaugurazione della stagione nuova del Grande Fratello. VIP. No, cioè, non gliene frega niente a nessuno. Voi ascoltate i dibattiti e non c'è una sincera partecipazione al dolore di un popolo. Non c'è. Ma insomma, anche questi ucraini, ma basta e dai. Io ricevo messaggi di gente che mi dice sì, ma anche gli ucraini. E tu dici, facciamo così, vengo a una casa tua, ti stuprano una figlia, ti portano via un pezzo di casa e tu dici sì, ma anche lei, signora. Ma insomma, no? Cioè, questa idea poi che a uno stupro si risolve il problema con un matrimonio riparatore senza consenso della vittima. E se glielo dici, dici no, però è un po' è un po' cruda così. No? Però il concetto è la pornografia del dolore con il bollino sulla faccia e abbiamo risolto tutto. Berli, diciotto anni, come su siti pornografici che siete presenti che scrivono, lo so che lo sapete, no? appena diciottenne, così, c'è la liberatoria legale che ce l'ha scritto quindi non potevo sapere che non fosse vero perché questo è il punto, no? Sapete che l'Italia è il più grande consumatore di porno ed è anche il più basso consumatore di sesso dal vivo perché ormai ci si sta abituando e diceva ma perché devo fare fatica a fare conoscenza simpatico, a lavarmi, ma neanche col tutone, va bene così. Allora, dal punto di vista di ricostruzione storica la cosa che ti sconvolge e che dici? Vabbè ma l'espansione della Nato com'è successo? Cioè mi è caduta la bottiglia dell'olio, si è allargata la macchia, no? C'è stata una regia, no? Ti spiego, cioè quelli che sono usciti dal dominio sovietico hanno detto come posso fare ad avere meno probabilità di avere i russi addosso tra cinque anni entro nell'Unione e entro nella Nato. Semplice. Quanti dei governi e dei popoli che hanno avuto istituzioni democratiche hanno scelto la Russia dopo la fine dell'Unione Sovietica? La risposta è zero. Allora, anche una persona ottusa verrebbe in mente di chiedersi strano questo fatto, come sarà successo? Ed è successo che le persone scelgono. Una cosa che mi ha sempre irritato è che quando si parla dell'Occidente si fa sempre no, ah Occidente, però insomma c'è l'Occidente e invece quando si parla di rituani, gli estoni, gli ungheresi e quant'altro, la distinzione tra popoli e governi torna sempre. Eh ma sono i governi che hanno fatto quello, mica i popoli. Invece quando riguarda l'opposto è l'Occidente che si è espanso. Allora, non sta in piedi, oltretutto dal punto di vista storico e concludo, per chi ha vissuto quegli anni si ricorda benissimo che l'espansione della Nato è successiva alla guerra civile Jugoslava e la preoccupazione principale era ok, qui succede un casino su scala continentale paragonabile a quello che è successo in Jugoslavia da stettino diciamo così dal Baltico fino al Mar Nero. Come si fa a evitare questo? E le cose che io sento dire eh ma c'era stato un accordo verbale tra russi anzi tra sovietici e americani sulla non espansione della Nato certo ma nel frattempo c'era stata la riunificazione tedesca la scomparsa dell'Unione Sovietica e tutti questi soloni che dicono no perché l'Unione Sovietica ma l'Unione Sovietica è scomparsa perché gli amici di Putin cioè nel senso quelli più vicini a lui il Kagebe il Ministro della Difesa il Ministro degli Interni il Vice Presidente Sovietico il Primo Ministro Sovietico il Vice Primo Ministro Sovietico avevano fatto un colpo di stato militare nell'agosto del 91 contro Gorbachev per impedire di tentare quella cosa incredibile ma che tutti avremmo aspettato che potesse succedere della trasformazione nella continuità dell'Unione Sovietica in un'Unione davvero democratica e federale impedigli questo e ripristinare lo status quo anche è quello che ha provocato il disastro allora non si può sentire che adesso è la Nato che abbaia i confini d'Europa ma va là cioè adesso va bene tutto ma se no diventa che allora mi spiego allora anche gli argentini povere bestie erano volevano solo riunificare The Folkland Malvinas contro l'Inghilterra non era un regime di fascisti che si è inventato una guerra contro l'Inghilterra per distrarre dalle madri di maggio della gente buttata dagli aeroplani allora è questo che ti dici ok ma dove stiamo vivendo vi spiego cioè noi abbiamo tanti difetti ma per carità di Dio però detto ciò non si può andare con tanto al chilo una delle cose che mi ha fatto scrivere questo libro era l'irritazione soltanto al chilo guerra respira profondo guerra quindi cosa si fa invece di fronte la guerra come se dicessi cancro cancro si fa la radioterapia o si fa si opera cioè è brutto è spaventoso ma cosa fai invece questa idea che le guerre sono tutte guerre che non è così dopo tu puoi fare come il mio amico Fabio no delle classificazioni attraverso la diversificazione che hai fatto all'inizio distingui e poi rifai classi di cose comuni non può essere un generico e concludo su questo l'altro giorno c'è stato questo coso di Dio Rita il sondaggio non so si chiama inchiesta fa impressione cioè i tre quarti degli italiani hanno paura della guerra di essere nella terza guerra mondiale e il 65% ha paura che ci sarà la guerra nucleare poi le metti insieme al fatto che i quattro quinti piuttosto che doversi fare un cambiamento nella vita rinunciano a cambiare anche a fronte di una prospettiva di carriera in cambio e capisci che paese è è un paese che gli vanno bene le trediche del sabato della domenica del venerdì chi sia sia e dice è però è perché è bene ecco questo è il paese è un paese che fa fatica a pensare è un paese che fa fatica a ragionare è un paese che ha bisogno di sentirsi dire ma tu no però bravo tu sei bravo è vero il mondo è terribile ma tu sei un bravo bambino questa è la cosa sconvolgente dopo il 70 dopo tre generazioni di istituzioni democratiche ma penso che sia il frutto del disinvestimento sistematico sull'istruzione cioè se tutto un pop continua a dare ignoranza 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 da maniera che massima il fondo va bene ecco questo è stato il popolo più vaccinato e con più no vax contemporaneamente mi fa impressione posso agganciarmi perché hai fatto citavi Gorbassov allora io allargo un po' la prospettiva dico sì noi italiani non siamo un gran che ma neanche l'Europa io ricordo che in quei giorni per esempio l'Europa ci ha messo niente ad abbandonare Gorbassov e a salire sul carro di Jelsin anche se si sapeva già che insomma il personaggio non era particolarmente affidabile così come l'Europa non si è minimamente fatta scrupolo di interloquire con Putin pur sapendo che era un oligarca di un regime autocratico insomma fino al giorno dello scoppio della guerra lui e tutti i suoi amici appunto gli oligarchi ma viaggiavano tranquillamente investivano facevano e continuano peraltro a fare i loro investimenti nella city di Londra cioè è stato comunque adottato come partner faccio questo questo esempio perché c'è un'altra chiave di lettura che io trovo anche rilevante e persino più inquietante che è la chiave di lettura diciamo così economica il mercato il mercato della guerra allora qual è il problema il problema è che comunque finché Putin è rimasto diciamo entro i margini il fatto che lui gestisse comunque il suo potere in modo assolutamente repressivo nei confronti dell'opinione pubblica era comunque compensato dal fatto che faceva grossi investimenti dava ovviamente il gas alla Germania eccetera però il dato più di fondo è che noi per esempio continuiamo noi europei in genere continuiamo a bastonare i migranti che arrivano sulle barchette attraverso il Mediterraneo rischiando peraltro la vita ma non diciamo nulla sul fatto che Malta vende i passaporti europei per esempio gli oligarchi russi allora quello che io trovo a volte ancora più ipocrita è adesso scoprire che in qualche modo abbiamo un nemico alle porte ma quel nemico era già dentro quel nemico era già entrato attraverso appunto i meccanismi economici nei nostri sistemi e non ci siamo fatti alcuno scrupolo di accettarlo su questo tu hai perfettamente ragione sull'aspetto economico e ci sono due due dimensioni secondo me una dimensione quella che tu citi e su cui io sono d'accordo cioè del pecuniano knowledge no? certo e quindi come diceva Lieni se ricordo bene i capitalisti vendranno l'ultimo ci vendranno l'ultimo pezzo di corda con cui li impiccheremo per cui non c'è dubbio che la profittabilità è la short view che domina le nostre vite e non c'è dubbio che all'interno di questo sistema economico finanziario globale esistano tipi di capitalismo diversi che non abbiamo sottovalutato la pericolosità di quel tipo di capitalismo perché per i legami che hanno il potere cioè per il fatto che un capitalismo ha servito agli interessi della cricca politica che comanda che è un tutt'uno con quello noi abbiamo altri problemi chiaramente noi abbiamo problemi che il capitalismo si mangia la democrazia si mangia la politica per alcuni aspetti allora non abbiamo problemi anche la politica si mangia il capitalismo per cui apparentemente parliamo della stessa cosa stiamo parlando di cose diverse e non abbiamo gli anticorpi cioè non capiamo che questi sono cavalli di troia dentro i nostri sistemi economici e mentre noi qualche attenzione verso Musk Bezos e qualche altro di questi fenomeni ce l'abbiamo perché li riconosciamo comunque anche se possono piacere ma li riconosciamo siamo molto meno più in difficoltà a capire che Huawei piuttosto che Gazprom sono semplicemente emanazioni del potere fino a quando poi la risorsa economica non è utilizzata come un'arma allora diciamo ah caspita però gli stavo passando i bastoncini per mangiare il poke e mi li tira in testa dall'altra parte però secondo me non è questione di ipocrisia è questione di coerenza perché altrimenti Fabio l'alternativa che tu proponi appunto è esportare la democrazia o essere in guerra con il mondo a me francamente come Putin governa i russi posso dire la verità non me ne frega niente non me ne frega niente cioè io mi spiace per i russi ma è un problema dei russi che hanno Putin sono loro che devono scrollarsene di dosso non riescono mi dispiace tantissimo umanamente ma non ho un problema che posso risolvere io non sono stato capace di risolvere il problema dell'Afghanistan risolvere il problema della Russia non scherziamo quello che mi interessa è che la Russia non manifeste aggressività nei miei confronti poi i russi si guardano si mangiano tra di loro cioè finché fanno tra di loro possono andare avanti tutta la vita sono loro che devono risolvere il problema quando aggrediscono l'Ucraina è diverso perché l'Ucraina è uno Stato indipendente minano l'ordine internazionale loro hanno firmato un trattato internazionale di rispetto di quei confini in cambio della consegna delle armi atomiche per cui io sono favorevolissimo al fatto che Putin se ne vada ma non posso essere io a fargli processo a facilitare questo processo sono favorevolissimo al fatto che ci sia un tribunale internazionale un tribunale penale internazionale sui crimini di guerra dei russi sono favorissimo al fatto che Von der Leyen abbia detto sai che c'è Bello Vladimir guardami negli occhi 300 miliardi di dollari li useremo per rimettere a posto l'Ucraina che tu hai distrutto ti faccio male dove ti fa più male ma io non posso essere al posto dei russi e mandare via Putin mi piace Putin? ah vici miei questo è il limite del discrimine voi siete di là e noi siamo di qua mi spiego? cioè io sono convinto che i principi siano importanti ma sono anche convinto che i processi siano nazionali autoctoni e non possiamo neanche secondo me nasconderci dietro la variabile economica come variabile indipendente è esplicativa di tutto perché non è così i russi hanno un sistema politico che fa schifo e quando noi abbiamo mollato Gorbachev abbiamo mollato Gorbachev dopo che loro i russi hanno fatto cadere Gorbachev e a quel punto l'unica alternativa era Yeltsin perché c'era o Yeltsin o i militari non è che c'erano altri e a quel punto abbiamo preso il male minore e con tutto quel male che si potete di Yeltsin che ce n'è da dire però Yeltsin stava democratizzando la Russia Putin da quando ha preso il potere ha fatto arretrare il processo di democratizzazione per cui appunto io penso che noi non possiamo avere il senso di colpa perché non siamo onnipotenti no no ma non parlavo di senso di colpa parlavo appunto piuttosto di di ipocrisia perché ipocrisia ma perché comunque è costituzione del limite come dicevi tu si accettano tranquillamente gli investimenti della Russia si accetta che gli oligarchi acquistino gli immobili nel centro di Londra che comprino i panfili e questo qual è il problema? posso proporvi no proporvi una domanda perché molti osservatori vedendo ad esempio quello che è accaduto in Germania negli ultimi vent'anni hanno detto i tedeschi legano economicamente a sé la Russia per evitare no che la Russia abbia delle strane idee dal punto di vista del come dire dell'aggressività verso l'esterno non ci convince questa lettura? cioè non poteva essere un modo legarsi economicamente alla Russia per evitare che ma le cose stanno insieme nel senso che non c'è tutti noi sappiamo nei fenomeni sociali non c'è la causa la madre di tutte le spiegazioni ma figurati te ci sono 10 12 15 3 7 possibili cause gli metti accanto delle percentuali e il totale fa più di 100 proprio perché non puoi andare a misurare davvero quindi ragioni per probabilità ragioni per argomentazioni per coerenza tra variabili diciamo indipendenti variabili dipendenti sapendo che quello che conta sono le variabili intervenienti che sono quelle che fanno saltare tutto il quadro per così dire tu lo sai che ci sono non sai quali sono cerchi di stimarle cerchi di capire e che poi tu lo faccia quantitativamente lo faccia qualitativamente non cambia niente sei sempre lì cercare di capire qual è la spiegazione che sta in piedi detto ciò secondo me ci sono le due cose cioè da un lato non c'è dubbio che tutta la strategia dagli anni 90 in poi da Clinton in poi è stato quello di engage cioè coinvolgere la Cina la Russia attraverso un aumento dell'interdipendenza economica nella convinzione che questo aumento dell'interdipendenza avrebbe fatto salire il costo della rottura dell'interdipendenza e quindi avrebbe dissuaso da rompere è stata una sopravvalutazione della capacità uniformante del mercato questo è molto liberale paradossalmente quindi molto poco complotardo diciamo così molto liberale molto coerente con i presupposti della filosofia liberale e però anche una filosofia di successo o di successo relativo non vuol dire che sia appunto onnipotente cioè il liberalismo il massimo che abbiamo ma non è che è la scienza in fun non è la virginità della madonna no? c'è un'idea no? che comunque c'è no voglio dire cioè è la miglior filosofia che c'hai però non è che dici allora la so no sai che procedi per tentativi ed errori e tra 50 100 200 anni o 70 anni o 30 minuti queste cose saranno da rivedere fa parte del progresso scientifico però contemporaneamente tu sai che accanto a questa roba qua magari un limite di questo c'è stato un deficit di comprensione della natura degli stati autoritari contemporanei cioè probabilmente la Cina della Russia oggi sono molto diversi dei autoritarismi post totalitari che sono codificati nei manuali di scienza politica forse assomigliano di più ai disputismi di cui parlava Montesquieu cioè forse c'è una categoria nuova di regini politici e quindi essendo diversa da quella che abbiamo in mente noi reagisce in maniera diversa agli stimoli perché io ti tocco qui convinto che sia la spalla invece è linguine oddio no? penso e l'ultima cosa che volevo dire e poi certo ovviamente c'è anche poi l'interesse privato all'interno dei grandi movimenti per cui quanto è contato la sua corruzione di portare la Russia dentro il circuito tedesco certo dall'altra parte si può dire la Germania ha sempre avuto la preoccupazione di avere buoni rapporti con la Russia dai tempi in cui la Germania era la Prussia di Federico il Grande no? e poi hanno combattuto tante guerre come tutti i prussiani e i tedeschi contro i russi ma sempre con la preoccupazione che non dovessero combatterle e che bisognasse cercare di averci amici averli buoni e in nome di questo hanno fatto anche tanti errori e poi c'è Merkel la persona con la più bassa qualità di visione europea che sia mai stata prodotta nella storia della leadership europea io sono anni che scrivo che è scarsa la Merkel che è stato un danno permanente la Merkel si è inventata la crisi del debito greco per mettere sotto controllo l'Italia la Spagna il Portogallo e la Grecia cioè ha usato la moneta comune per per distruggere e ha distrutto la Grecia per cercare di tenere sotto controllo le economie del sud dell'Europa scientemente perché non c'era ragione al mondo per poter dire che la crisi del debito greco la Grecia che forse la Lombardia è il doppio non lo so cioè la Grecia cos'è la Grecia ah la Grecia chiamo io no eppure cioè è stato detto che avrebbe distrutto l'euro la Grecia ma fa ridere cioè nel senso ma neanche se avessero fatto i numeri falsi tre volte tanto eppure questo è stato detto e poi chi lo sa se Merkel era solo una ragazza venuta dalla Germania Est e quindi non socializzata all'evoluzione culturale tedesca che c'è stata nella Germania Ovest perché la cultura tedesca al di qua dell'Elba nel Novecento non è stata la cultura tedesca al di là dell'Elba o forse chi lo sa magari tra 50 anni scopriremo qualche qualche pizzino in cui capiremo che Merkel non era solo un po' ottusa e non era solo un po' dell'Est ma magari era anche un po' qualcos'altro vedremo Fabio Armao abbiamo parlato poco di pace finora il posto della guerra è stato il posto della pace dice Vittorio Emanuele Parsi nel libro e una cosa che osserva che osserva l'autore nel libro ha a che fare con la logica che viene definita del pacifismo assoluto quello che dice Vittorio Emanuele Parsi è il pacifismo assoluto è incoerente rispetto all'obiettivo di garantire la sicurezza delle democrazie e quindi contribuire alla pace universale come lo vediamo intanto ha senso parlare di pacifismo di pacifismo assoluto c'è come dire anche nel discorso pubblico prima diceva Vittorio Emanuele Parsi la richiesta di pace come la dobbiamo leggere la dobbiamo leggere come effettivamente un contributo alla risoluzione del problema o come uno slogan che poi non ha davvero sostanza e contenuto reale ma devo dire su questo sono totalmente d'accordo con Vittorio quello che scrive cioè il nostro in genere nel dibattito italiano il pacifismo ha una connotazione molto ideologica e molto poco metodologica diciamo così il che perché tutti ovviamente siamo favorevoli alla pace al pacifismo dopodiché però l'unico strumento che abbiamo è proprio quell'ordine liberale di cui parla Vittorio nel libro che poi vuol dire tutto quello su cui possiamo contare è il metodo democratico allora quello che io osservo e ogni tanto contesto è il fatto che noi come paesi democratici che badate bene abbiamo avuto dei privilegi straordinari tra i quali appunto la possibilità di vivere in pace per più di 70 anni che è una condizione che la quasi totalità dei paesi dell'Africa per esempio non conoscono non hanno mai conosciuto nella loro nella loro esistenza allora il problema qual è? noi abbiamo imparato che la democrazia più ancora che dei valori è un metodo sono quelle istituzioni di cui appunto parla Vittorio nel libro che è una cosa lunghissima da costruire sono ancora estremamente come dire inefficienti inefficaci per esempio a livello internazionale funzionano già un po' meglio ma neanche benissimo a livello interno bene però questo metodo poi lo devi effettivamente applicare allora l'altro problema grosso dei paesi democratici è che non hanno mai saputo lo dico in una battuta vendere bene il loro prodotto cioè vendere bene la democrazia chiedetevi perché per esempio il nostro modello di regime le nostre democrazioni non sono attrattive per tante culture diverse dalla nostra volendo esagerare appunto se pensate alle teocrazie modello iraniano vedono la democrazia come un sistema corrotto privo di valori eccetera questo è un problema loro come direi istituzione è un problema delle teocrazie ma è un problema anche nostro perché evidentemente non siamo mai riusciti a vendere bene il nostro prodotto e non siamo riusciti a venderlo bene perché l'abbiamo in realtà applicato con troppa discrezionalità allora per costruire la pace l'unica possibilità che vedo ma mi rendo conto che altrettanto utopisico è quello di dire beh cominciamo per esempio ad applicare dei sistemi democratici anche nelle relazioni col sud del mondo che è un tema che tu tratti anche nel libro cioè noi parliamo sempre appunto siamo tornati a parlare nuovamente di est-ovest cioè della contrapposizione fra democrazia e queste nuove questi nuovi autoritarismi anche su questo sono d'accordo con te non c'è un ritorno al passato non c'è non possiamo confrontare i regimi di Putin con il totalitarismo nazista sono due cose completamente diverse è cambiata la storia sono cambiate le istituzioni è cambiato il sistema internazionale io parlerei penso a Putin mi viene in mente una nuova categoria che è l'oligarchia assoluta cioè che è un misto delle vecchie monarchie ma in tempi di globalizzazione ma detto questo il problema tipicamente specificamente nostro dei paesi occidentali che noi non abbiamo mai guardato al sud e non abbiamo mai pensato di cercare di cominciare ad applicare i metodi democratici anche nelle relazioni con questi paesi prima si parlava appunto dei legami delle relazioni tra la Germania la Russia il problema del gas eccetera non dimentichiamo mai che la grossa differenza tra l'Europa e gli Stati Uniti è che l'Europa non ha risorse non ha risorse naturali allora queste risorse che siano le terre rare che sia il petrolio eccetera devono andarle a prendere all'estero questo quindi in parte contribuisce a spiegare il cinismo nei confronti della Russia in particolare da parte della Germania e spiega anche le relazioni che l'Europa in particolare in questo anche gli Stati Uniti hanno sempre intrattenuto con i paesi del sud del mondo insomma l'Africa è un serbatoio di risorse che vengono metodicamente e spietatamente saccheggiate e ripagate molto poco allora probabilmente se volessimo cominciare a ragionare in termini di pace potremmo cominciare per esempio banalmente con pagargli un prezzo un pochettino più equo rispetto a quello anche qui è poco più di una battuta ma per darti un'idea anche su cambiare le mentalità su una cosa faccio un esempio di un paese che non goda di buona stampa giustamente la Svizzera ditemi qualcuno qui è simpatica alla Svizzera qualcuno però pochi siete vi rendete conto ok però la Svizzera è un posto apprezzabile perché è pulito si può mettere i soldi così si mangia male però non importa però la Svizzera cosa fa rispetto al problema di riscaldamento globale la Svizzera inquina poco non hanno grandi industrie manifatturiere sono abbastanza evoluti sui sistemi tecnologici per cui loro pagano hanno deciso stanno di dare dei soldi ai paesi poveri che inquinano molto quindi senza fare tanto bilibum di grandi discussioni hanno detto ma da Svizzera non ti aspetti noi mi diamo dei contributi ai paesi che non sono in grado di decarbonizzare perché sono molto poveri ci mettiamo paghiamo noi la bolletta e il nostro contributo è la decarbonizzazione senza chiedersi eh sì però se inizio io poi quell'altro non inizierà io aspetto per ultimo perché tu sei penultimo certo però i russi invece i cinesi gli americani gli indiani i compagni cantanti noi facciamo questo tanto possiamo permettercelo ma non è che gli svizzeri trovano i soldi sono dei tombini e gli svizzeri sono molto attenti ai soldi ci lavoro in Svizzera e vi posso assicurare che sono stra attenti ai soldi però hanno detto è una cosa razionale è un modo di applicare se vuoi il metodo democratico verso l'esterno di concepire una comune comunità umana ci puoi arrivare anche dalle banche svizzere dal capitalismo più in corto respiro che possa immaginare quando dici idealista come uno svizzero adesso ho capito che mi piace la Svizzera però non si dice tendenzialmente non è la prima associazione che ti viene in mente eppure si può fare allora è proprio questo su questo sì che ci può essere un cambiamento di mentalità sulle cose in cui tu intanto ci metti del tuo ecco quello che dà fastidio tante volte dell'atteggiamento italiano è che è tutto questo bellitarismo di grandi sentimenti però quando poi si paga beh si paga la romana ma se si può si paga la cinese se ciò mi alzo vado via pagate voi no cioè è questo che ti fa che ti fa veramente cadere le braccia perché se non inizi con l'esempio non va da nessuna parte e quindi dovrei prendere lezioni dagli svizzeri poi sono di Milano per cui sono la Svizzera è proprio vicina proprio il dolore fisico quando vedi la Svizzera no quindi è questo che è grave beh la Svizzera ha anche tanto di cui farsi perdonare quindi vabbè ma chi non non abbiamo questo questo capitolo che c'è tua moglie sto scherzando chiaramente